Tutte le volte che si pensa a un lotto... Ho cominciato a vedere le camionette dietro le mie spalle, dietro la finestra... Non avere, sentirsi impotenti, non sapere cosa fare... Le difficoltà sono state quello di essere da sola... Un continuo, un continuo di perdite... Tutto è così, cioè in un attimo... Grazie a tutti!